buongiorno buongiorno a tutti ea tutte oggi non faccio una traduzione letterale di quello che andiamo a vedere ma andiamo ad analizzare semplicemente un video di lesta nile lesta niliam è nel suo sito dice che rompe la realtà come una noce ma dopo vi racconterò meglio di lei perché voglio desidero commentare questo video perché oltre a parlare della nasa oltre a parlare di altre cose lesta l'11 ottobre del 2016 nel suo blog di google più ha scritto una cosa non voglio dire provocante però scriveva visto che impiegano un po di giorni per arrivare dalla terra alla con la soyuz per arrivare alla stazione staziale come fanno quando hanno bisogno di andare nella toilette loro stanno con loro sporco e questa era è una cosa non è la prima volta che la nasa interviene immediatamente quando lesta niliam propone delle cose infatti questo video che io stesso avevo visto qualche giorno fa in pensate che lista ha postato l'11 ottobre questo e il 14 ottobre è uscito questo video dalla parte della nasa che va praticamente a contraddire quello che lesta niliam ha scritto nel suo blog andiamo ad ascoltare esattamente un pezzo dell'intervista come si arriva sulla stazione con la rocket col missile e quanto tempo si impiega circa sei ore lesta niliam ha detto che impiegavano due giorni mentre invece questo astronauta ha detto sei ore vuol dire non è un tempo così lungo perciò non ha bisogno di andare in toilette dopo vi spiego perché sto commentando questo video ci sono due contraddizioni completamente pazzesche cioè una dove si va a dire ad interrogare quanto tempo impiegano per arrivare nello spazio prima si parlava di due giorni e qui bastano solo sei ore di conseguenza in sei ore non c'è bisogno di andare nella toilette come dice lesta niliam ma lesta niliam è una persona assolutamente indagatrice perché bisogna sempre andare ad indagare anche i video che vedete qua andate a indagare su questo ma se andiamo a vedere l'11 ottobre lesta niliam ha detto due giorni il 14 ottobre la nasa ha detto sei ore ed ora andiamo a vedere la soyuz ottobre 20 di questo mese che cosa dicono durante il lancio della soyuz ecco la soyuz che è partita c'è un tempo un po nuvoloso nove minuti e i tre membri impiegheranno due giorni per riuscire ad arrivare alla stazione orbitante pertanto dovranno stare nel loro sporco e qui ci sono delle grosse contraddizioni fra la nasa fra la russia fra le informazioni che davano prima eccetera non è che devo adesso complicare la vita per andarvi a spiegare lesta niliam o meno effettivamente con questo video non si va altro che a rafforzare quello che già nel libro di george orwell 1984 nel romanzo si scriveva di una società che è molto simile a quella che viviamo adesso praticamente la storia verrà continuamente cambiata in quello che abbiamo accesso noi vale a dire le informazioni che noi abbiamo sono solo ormai attraverso internet è un processo che ci costringe dico ci costringe a non poter più cercare la verità il messaggio che posso dirvi è la carta tenetela i libri vecchi teneteli e non fidatevi di quello che vedete sul web vi dico solo che tanti tante crociere tanti voli che parlano di voli diretti o meno sono iniziati dopo il 2012 prima non c'erano poi sono sorte le come si dice i viaggi in antartide prima non c'erano perché perché è una manovra per andare a farci credere quello che non è vero la terra non è un globo noi abbiamo accesso a informazioni attraverso web sono informazioni elettroniche i satelliti non ce n'è uno vero sono tutte fotografie con il cavolo che sono fotografie sono solo disegni non sono fotografie però ce li passano come veri tutti i fatti che vediamo nella nella scienza sono tutte costruzioni fatte con l'elettronica con le immagini create dai computer buona giornata state bene un saluto col cuore dino tinelli